Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video e ragazzi questo qua è un video errimo perchè sono qui a presentarvi un wager match ragazzi e era un macello di tempo che non ti portavo un wager match credo addirittura da fine dicembre tutto gennaio vi ho lasciato senza un wager match non so come voi abbiate fatto a vivere comunque ci sono qui a presentarvi il wager match di un magicone di un magicone che fa rima con magicimo vicio infatti ci sono qui a presentarvi i wager match di Ibrahimovic però perchè non ho Ibrahimovic nella squadra allora oggi sfiderò il mio iscritto dopo andremo a vederli il nome appunto quando lo inviterò che appunto se io vincerò lui mi darà Ibra in forma e magari Ibra in forma no lui mi darà Ibra l'offerta me l'ha già fatta non ve lo faccio vedere però andate sulla anzi no me la faccio vedere perchè poi magari io so che c'è qualcuno che non si fida mentre se vincerà lui io cos'è che dovrò dargli dovrò dargli allora e adesso faccio dire una cosa dovrò dargli e tu informa che vale sui 500 mila crediti io l'avevo pagato 720 come vedete questo è Ibrahimovic poi ben ti ha secondif ed Izequielif quindi detta così io ci potrei anche guadagnare anche perdendo nel senso ci smenerò ovviamente le perdite però tecnicamente Ibra dovrebbe valere un po' di più di questi tre giocatori però lui è magico e ci ha dato appunto questa opportunità comunque questa squadra adesso io vi metterò gli occhiali perchè ho appena fatto un posto facebook chiedendovi se volevate gli occhiali o meno voi avrete detto di si quindi ci si sente tra poco errimo yes ragazzi gli occhiali sui si è messo ora andremo ad invitarlo ho visto anche che un po' di gente non li voleva quindi cosa ho deciso di fare farò un tempo con gli occhiali e un tempo senza cioè ditemi quanto non sono magico comunque ecco qua il suo nome si chiama Owen Coyle vabbè comunque saluto ti auguro una buona partita li abbiamo invitato e ora ci basta solo aspettare che lui arrivi ragazzi è arrivato eccolo qua Owen Coyle poco giù da che big match che sarà no ecco me ne erano sudato vabbè ovviamente se volete passare via con il test vi ricordo di passare dal link in descrizione appunto di andare a vedere per comprare i crediti oh mio dio mi sudano già le mani è la serie A vagaterrima oh porca miseria che fantasia tutti c'erano queste squadre non ce l'ha nessuno invece voglio dire comunque è partita la partita ragazzi è partita la partita e tu subito hop e tu stavolito 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 e tu 1 a 0 al terzo minuto al terzo minuto stavolito 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 dai 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 allegri stai fa pure rima mamma mia ravinesse porca vacca boia fuoni stiamo soffrendo un po troppo mi sa che ci ha segnato l'1 a 1 questo è fortissimo mannaggia porca vacca 1 e che costante 1 a 1 2 a 1 al diciottesimo mi barbo dio santo va no no dai no 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 3 a 1 porca miseria e lo sentivo porca boia o i wager match in cui ci posso vado a tenere qualcosa non li vinco mai i pink ball in cui non ci guadagno sempre li dai ronny dai 3 a 2 3 a 2 3 a 2 dai 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 grandissimo ronny ronaldo parata boia vai calcio d'angolo marcelo marcelo la metterà in mezzo marcelo stregheta finito primo tempo ragazzi porca bestia 3 a 2 per lui mannaggia la salsiccia ma questo è il problema se i tiri luca sta meritando sta meritando io non dico niente però ragazzi c'è da dire una cosa io era no avevo appena fatto due partite però in questi giorni sto studiando troppo e lo studio ragazzi fa male a fifa se voi studiate perderete le partite sappiatelo bravo va bene va bene siamo carichi un gol devo fare dai dai pc mod dai che gli abbia andata nel modo giusto no 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 dai stava meritando noi adesso e gli ho pure dato io che due palle e gli ho pure dato io ragazzi contro questa squadra nulla si può fare e se non proviso attenzione gol oooooh oooooh aaaaaaaaaaaahh suuuu guarda te ma guarda te ma guarda te ma guarda te Eh, a lui le para però, dai Faceva gli stessi tiri, solo che usava i giocatori bag Cristiano Ronaldo non li fai, li fai barbo Ah, che due palle, ragazzi, che due palle, che due palle Eh, porco Giuda Abbiamo perso un macello di crediti Oh, quando faccio i pink palla mi vinco E non ci posso guadagnar niente Dio santo, mi ha distrutto Ragazzi, non è che non se la meritasse Però è assurdo che Cristiano Ronaldo non riesce a fare i gol che fa i barbo I barbo Porca vacca Sto cane, ragazzi, ha messo all'asta Bentechè Intanto, dato che siamo in clima bagatezza Raffanculo Raffanculo Alla prossima Ibarbo Alla prossima Cosa